Sono 44 nuovi positivi registrati oggi mercoledì 26 gennaio su 141 tamponi molecolari di ieri. Ecco i casi divisi per ogni comune. A Portoferraio 19, a Campo nell'Elba 4, 1 a Marciana, 7 a Capoliveri, 5 a Rio, 7 a Portoazzurro e 1 che riguarda un non residente sull'isola. Nella giornata di oggi sono stati eseguiti altri 136 tamponi molecolari.